Il Comune di Villa di Tirano prosegue nella messa in sicurezza del territorio. Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'inserimento nel documento unico di programmazione delle opere pubbliche 2021 e 2023 la realizzazione del sottopasso viabilistico in Via Europa, Via Dorsa, che bypasserà la Statale 38 e la Ferrovia per collegarsi alla viabilità che porta al ponte di Stazzona. Un'opera strategica con la chiusura definitiva in un colpo solo di tre passaggi a livello. Grazie al piano Marshall di Regione Lombardia ci è stato finanziato un contributo di un milione e mezzo di euro dove adesso con altri enti superiori e con le ferrovie stiamo perfezionando il costo complessivo che si aggira sui 6 milioni di euro perché qua verrà realizzato un sottopassaggio carraio più o meno all'altezza dove c'è il distributore qua a Villa di Tirano appena sotto. Abbiamo già fatto il progetto di fattibilità, serve per quelle persone che devono raggiungere da Motta o da Stazzona il centro evitato. Con questo progetto andremo a realizzare anche un sottopassaggio ciclopedonale più limitato rispetto a questo all'altezza del poschiavino, vicino al poschiavino così andremo a chiudere tre ulteriori passaggi a livello, quello del poschiavino, Sosta a Petitosa e quello a Casello. Un importante intervento che prosegue l'opera di messa in sicurezza della viabilità con chiusura dei pericolosissimi incroci statale 38 Ferrovia. Solo lo scorso anno ne insistevano 11 nel territorio di Villa di Tirano. Dopo i due già chiusi nel 2021 per quello di Strada Bertagna e quello di Canale Rossi al confine con Bianzone si apriranno i cantieri, mentre per i due Ponte di Sasso e Stazione Ferroviaria si procederà alla gara d'appalto per l'assegnazione delle opere entro dicembre. Quanto riguarda il passaggio a livello della stazione avete in programma la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale. C'è già il progetto, secondo me è un bel sottopassaggio dove se si apre mura si fa le scale, altrimenti si può per un passeggino o in bicicletta c'è lo scivolo a norma di legge. Vorrei ringraziare la prefettura, la regione Lombardia e la provincia e i sindaci tutti insieme, ha guardato prima di tutto la sicurezza.